Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per l'avvio della nuova settimana l'anticiclone torna a rinforzarsi a garanzia di condizioni di bel tempo su tutto il nostro territorio con temperature massime in progressivo aumento. Tuttavia nella seconda parte della settimana qualche fenomeno potrà tornare ad interessare il centro-sud per il possibile passaggio di una nuova perturbazione. La tendenza come sempre è ancora da confermare per tutti i dettagli riguardo a Pasqua e Pasquetta restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.